Conferenza stampa all'interno della quale è stata presentata la prossima inaugurazione di una mostra che riguarda la giostra del Saracino, 90 anni sulla Lizza. Sì, ci sembrava giusto, in un momento di estrema riflessione, celebrare i 90 anni della giostra del Saracino. Sono un evento, secondo me, molto importante e abbiamo voluto, come amministrazione, celebrarlo in maniera adeguata. Quindi abbiamo partorito questa mostra che ci accompagnerà per tutti i 90 anni della giostra stessa. La giostra è stata in forze fino all'ultimo? In realtà, in forze lo è ancora, nel senso che abbiamo avuto dal prefetto e dal Comitato d'Ordine di Sicurezza Pubblica l'assicurazione che si potrà correre il 5 settembre, valendo le regole di oggi. Purtroppo, come sapete, il sistema dei contagi sta nuovamente dando esiti negativi e stanno riaumentando. Quindi dobbiamo stare con le orecchie dritte fino a pochi giorni prima della giostra. Noi la organizziamo come se nulla dovesse cambiare, ma dobbiamo essere pronti anche a fare ulteriori ragionamenti se qualcosa dovesse cambiare nel termine di contagiosità del nostro territorio. Ma sarà un percorso alla riscoperta della giostra dalla sua rinascita dei anni 30 fino ai giorni d'oggi con elementi del passato e del presente per celebrare i suoi 90 anni. Sarà un bellissimo percorso, io mi sono emozionata, spero che lo sarà lo stesso anche per voi. Immagino che ci sia stato un lungo lavoro. E oltretutto un lavoro che dura da tanto, infatti ora che mi ci fate ripensare i primi tempi sono stati anche duri perché se non sbaglio eravamo addirittura ancora in zona rossa e quindi non era nemmeno facile trovarsi e discutere dell'argomento. Ci siamo seduti a un tavolo diverse volte, l'idea è nata dal consiglio di Giostra. Io sono stato invitato in varie occasioni e abbiamo dato forma a questa idea che ritengo molto bella, interessante e spero che tutti coloro che andranno a visitare la mostra la pensino allo stesso modo.